Manuel Marras, un'esperienza per te importante, professionale qui a Pescara dopo tanti anni di Serie C e di Gavetta? Sì, assolutamente, è un'occasione, per questo devo ringraziare anche il mister perché mi ha voluto fortemente e sicuramente spero di cogliere al massimo possibile. Ecco, Pillon una settimana fa ha detto tra i giocatori, se mi chiedete una sorpresa io dico Marras. Sicuramente io il mister già lo conosco e devo ringraziarlo perché mi ha cercato e spero di ripagare la sua fiducia. Quali sono le tue caratteristiche da esterno d'attacco? La velocità, l'uno contro uno, sicuramente sono queste le caratteristiche principali. A Pescara c'è una importante concorrenza perché nel tuo settore sono arrivati diversi giocatori proprio nelle ultime ore e negli ultimi giorni, questo è un ulteriore stimolo? Sicuramente fa parte del gioco, più gente c'è meglio è, nel senso che la squadra sicuramente sarà costretta ad allenarsi al massimo e sicuramente anche nel mio ruolo ci sono giocatori importanti. E la tua prima settimana di ritiro in Biancazzurro come stai trovando il gruppo? Un bel gruppo, un gruppo affiatato che lavora bene quindi l'importante è questo, sicuramente c'è ancora tanto da lavorare e speriamo di farci trovare punti per l'inizio del campionato. Prima di saggiarla sul campo, qual è la differenza principale che ti aspetti di trovare tra la C e la Serie B? Ma sicuramente magari la velocità del gioco e la tecnica perché tante volte magari anche in Serie C viene meno. Savona, Trapani, Alessandria, sono state esperienze che ti hanno lasciato o cosa? Ma sono cresciuto sotto tanti punti di vista, sicuramente sotto il piano mentale, il piano fisico e sicuramente giocare in questi campionati fa crescere. Cosa ti hanno detto di Pescara, non so, tra compagni di squadra, persone con cui hai parlato, della città? Ma non c'è bisogno di presentazioni, Pescara è una grande piazza e la storia che parla. Senti, cosa ti aspetti da questo campionato da un punto di vista di squadra, quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è quello di fare il massimo possibile, ora noi non ci siamo prefissati in obiettivo ma cerchiamo di fare il massimo.